Eccoci con Secrets. Ho abbassato un po' la musica sperando che si senta la mia voce. Dà l'idea di poter essere divertente e violento. Soprattutto violento. Ok. Vediamo se passiamo un po' anche i dialoghi. Sì. Speriamo che si senta meglio la mia voce. Orchetti. Non c'è nessuno. Orca miseria. Vabbè intanto non so vendere un po' di schifex. No, meno queste. Beh, proprio una sorpresa, eh? Oh, come se vittà su questo, eh? Bene, l'opera è buona, però già l'abbiamo fatta. Ora non ci resta che trovo che quelle bacche di ferro, prima andiamo a liberare William, William, Wilbur, non ricordo mai come si chiama. Senti qui. Si. Senti qui. Non è vero che ti guardo, se ti guardo Buo il bocchino Missione completata Perchè quello si è rimpiagato? Perchè quello si è rimpiagato? Perchè quello si è rimpiagato? Si seguirà per un po' nella trama, poi farà una brutta fine SPOILER! Si? No, non avevo una cruna ma io mi ricordo che questo portale si poteva attivare Perchè quello si è rimpiagato? Perchè quello si è rimpiagato? Perchè quello si è rimpiagato? Ti annienterò senza neanche scompigliarmi i capelli Perchè? Sono molto forti nei misti qua Perchè? Perchè quello si è rimpiagato? 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 L'urido orchetto parassita Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì, sì. Sì, sì. 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 Grazie a tutti 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 Un po' di sedo, un po' di soldi Speriamo di averla bullata bene Interessante, si è attivata l'abilità fisica e resistenza fisica più coincidina Non so come si attivi, utilizzando dei pezzi di quel passamento, boh, così si attiva da sola Sta per finirti, fecciallorchetto Odio agli archetti, mi innervosite Puzzate, puzzate e quando vi uccido non vi sbriciolate neppure Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Miserabile canaria Grazie a tutti Finché non trovi qualcosa di meglio Che cos'è? Un po' di... Un spade è... I-i non si parto daın... Il corpo dihatta... Cosa vuol che sia... Ah, ah! Ah, non lo dalus Go on Ah, ah! 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 Sento il profumo della lotta e dell'oro Le mie due grandi passioni Ah! 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 Ciao a tutti.